ciao amici di casa gemme da fla oggi vorrei farmi vedere la faccia di un ragazzo che mi ha dato due tamburi da ripellare è venuto a prenderli senza sapere nulla nel senso che gli ha mandati prima da un amico vorrei farvi sentire cosa da dire sui tamburi sono stupendi manufattura del tuo pregio ragazzi cioè veramente è una cosa cioè poi suonano che devo soltanto dire che un video a sorpresa di lui dopo che ha suonato il suo genio a